Attenzione perché non è detto che quello che si ha visto corrisponda poi alla vittoria finale. Madre Natura deve giudicare anche la regolarità e lo svolgimento della gara. Quindi vediamo quale braccio alzerà Madre Natura per Stiamo vivendo la vittoria, aspetta, una volta finito, oggi si ama, ci sono tutti i paloni della sfogliatore, ok, vediamo chi ha vinto la sfida. Grazie 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 Grazie